Ciao, la novità letteraria che ti presento è un romanzo in cui si racconta la storia di Donato Bilancia, uno dei più sanguinari serial killer della storia italiana. Conosciuto come il cannibale dei treni, Bilancia fu responsabile di 17 omicidi in soli sei mesi prima di essere arrestato e condannato a 13 ergastoli. Ma chi era quest'uomo? Carlo Piano ricostruisce nei dettagli la vita di questo assassino. La trama del libro Il Torto, 17 gradini verso l'inferno, di Carlo Piano, edito da E barra O Edizioni, è la seguente. Chi era Donato Bilancia? Ladro e gentiluomo all'Arsenio Lupenne, nottambulo della suburra genovese, giocatore infallito ma fedele all'azzardo della parola data, Walterino, il più feroce assassino che il bel paese ricordi dai tempi del mostro di Firenze, un bambino che andava bene a scuola e che prese una china storta. Donato Bilancia, detto Walter, resta un caso senza spiegazione, enigma ed emplema di quella banalità del male che, come Iago dell'Otello nella sua evidenza, non risponde. In questo raggelante romanzo, Carlo Piano ricostruisce nei dettagli la vita di quest'anima dannata, di questo scuro assassino, senza mai cedere a un facile, morboso voglierismo, indagando senza preconcetti e con tenace coinvolgimento nelle pieghe, nelle motivazioni, nei deliri di questa mente feroce, responsabile di 17 omicidi, come il cannibale Jeffrey Dahmer, ma nel giro di appena sei mesi, un semestre immerso nel sangue, il cosiddetto serial killer dei treni, venne catturato 25 anni fa e nella primavera del 2000 condannato a scontare 13 gastoli per i 17 omicidi dei quali si richiarò colpevole. Questa è la sua storia, articolata nei 17 drammatici momenti che ne suggellarono il destino, 17 gradini, per scendere precipitosamente al male, come in una bolgia, dal furto all'omicidio commovente, dall'assassinio per vendetta all'omicidio serale alla rinfusa, fino alla profanazione del cadavere di una ragazza della quale neppure conosceva il nome, 17 abomini che una volta assicurata la giustizia gli costeranno il carcere a vita, uscirà solo una volta, con un permesso di qualche ora, per andare a salutare i genitori, sepolti a Nizza Monferrato. Dietro le sbarre prese la laurea, lui che aveva stento finito di leggere l'abecedario. Infettato dal covid demorirà poco prima di Natale del 2020, solo come un cane, in una cella infestata dalle ombre, dopo aver rifiutato le cure. Si rifugiò nella religione? Forse Balugino l'idea. Si pentì? Era folle? O solo sopraffatto dal rancore? Donato bilancia, detto Walter, resta un caso, senza spiegazione. Breve info sull'autore Carlo Piano. Nasce a Genova nel 1965. Nel 1998 segue il caso bilancia come inviato di un quotidiano nazionale. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.